Il libro che vi presento oggi è un silent book davvero molto bello che si intitola Mentre tu dormi. Diciamo che il silent book, le storie si possono raccontare in tantissimi modi, ossia si possono raccontare a bassa voce, urlando e si possono raccontare anche senza parole, perfettamente in silenzio, come appunto succede con un silent book e questo perché? Perché si può raccontare anziché con le parole, con le immagini. Intanto diciamo c'è una regola dei silent book perché funzionino, ossia bisogna avere qualcosa da raccontare, sembrerà banale ma è la regola prima e non una semplice sensazione o una contemplazione ma davvero qualcosa che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine. E ovviamente questo silent book rispecchia davvero tutti i criteri per cui un silent book possa davvero piacere ai nostri bambini. Un altro punto è che le immagini devono essere chiare e anche i personaggi principali devono essere sempre ben identificabili tra gli altri, inoltre deve essere evidente anche la continuità con l'immagine che segue e quella appunto che la precede, evitando però la monotonia perché ovviamente la monotonia può annoiare. Poi un altro punto è questo che da una parte bisogna imporre a chi guarda una certa familiarità in quelle immagini che vede ma nello stesso tempo bisogna comunque creare un elemento in grado di sorprendere per mantenere sempre attiva l'attenzione, la voglia di scoprire pagina dopo pagina che cosa ci racconta questo libro. Quindi il ritmo deve mantenersi vivo, non deve avere cadute o tempi morti e anche per questo motivo diciamo che le immagini non devono essere troppo piene ma neanche troppo vuote. L'altro punto secondo me importante è che non tutto deve essere chiaro alla prima occhiata. Inoltre se c'è qualche elemento misterioso le immagini ogni volta si faranno guardare sempre con un nuovo e stupito interesse e alla fine colui che ha seguito tutto lo svolgimento di questa storia raccontata per immagini dovrà avere la sensazione di essere giunto a una conclusione logica e anche soddisfacente quindi non campata per aria perché tanto non c'è una narrazione sotto. Questo che vi ho presentato oggi è davvero uno di quei libri che rispecchia perfettamente tutti questi criteri e quindi ve lo consiglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.